Motorini lanciati a tutta velocità in un senso di marcia e nell'altro, auto zigzaganti tra fioriere e panchine dell'isola pedonale con musica dello stereo a palla per non parlare di biciclette lanciate a loro volta su due ruote come nei migliori circhi acrobatici. Poco importa che in strada in quella pseudo ZTL ci siano anziani in cerca di refrigerio e famigliole con tanto di passeggini al seguito, è accaduto di nuovo nella tarda serata di ieri tra via Matteotti, piazza Diaz, il corso Vittorio Emanuele e Nociara Inferiore, tra l'indignazione generale e la richiesta di interventi urgenti. E la battaglia di civiltà parte anche tra gli aficionados di Facebook. Eppure la soluzione del problema potrebbe essere a portata di mano, da guantare al volo prima che accada qualcosa di irreparabile. Due le strade percorribili, spiega il comandante della polizia locale, il maggiore Vincenzo De Prisco. O si chiede formalmente alle altre forze di polizia di far scattare il presidio della City quando smontano i caschi bianchi, alle 22 finisce il loro turno, oppure si prolunga l'orario di lavoro proprio degli agenti di polizia locale. La questione in realtà ne apre un'altra. Difficile che gli agenti di polizia locale siano disposti a fare dello straordinario, diciamocelo pure fuori dai denti, se quello pregresso non viene pagato e se in molti casi per ottenere un'equa remunerazione sono costretti ad agire con decreti ingiuntivi in danno del Comune. Un segnale di cambiamento, un segnale di buona volontà da parte della nuova amministrazione potrebbe essere proprio il saldo degli arretrati. Intanto di alternative deterrenti alla circolazione selvaggia in centro in realtà ne esistono. Ferma da tempo al palo per ragioni economiche la gara che porterebbe all'installazione delle telecamere specifiche per la zona traffico limitato via Matteotti Corso Vittorio Emanuele, si potrebbe pensare, e questa è una proposta lanciata anche all'amministrazione Torquato dal comandante De Prisco, di sistemare nell'area incriminata una telecamera del tipo di quella che c'è su via Amato. Una telecamera che scatta la fotografia richiedendo poi l'elaborazione del verbale da parte degli agenti di polizia locale. Il costo dell'operazione non dovrebbe superare i 5.000 euro, una cifra ragionevole se si tiene conto che in ballo c'è l'incolumità dei pedoni, bambini in primis.